Una scuola che si mette in gioco attraverso il teatro, dalla liceo classico Eschilo al teatro comunale Eschilo. Appuntamento questa sera alle 21 con la commedia in tre atti e se capetassatia di Nino De Maria. Sul palco gli alunni di varie classi dell'istituto diretto da Giochino Pelliteri. La commedia è molto attuale sebbene sia stata scritta negli anni 70 circa. Diciamo che la scelta è stata molto naturale perché le risate sono assicurate. Vi siete preparati bene? Certo. Dopo un anno comunque di prove dovrebbe andare bene. La regia è affidata a Giuseppe Felici. Con gli alunni abbiamo lavorato tutti i pomeriggi, è stata un'esperienza formativa, ricchente e abbiamo avuto modo di poter crescere sia dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista delle emozioni. L'attività è appunto quella di far diventare gli alunni sempre più disinibiti quindi poter affrontare un pubblico, poter argomentare, poter svolgere conferenze eccetera eccetera. Con Felici hanno collaborato Sonia Zaccaria, Daniela Fiandaca e Rita Salvo. Quanto è importante che la cultura arrivi dalla scuola? È importante perché dà la possibilità di affinare il senso civico, il senso morale, appunto dal punto di vista intellettuale ma anche dal punto di vista umano. L'ingresso questa sera è gratuito.